Io sono Annalisa Pericoli, sono una psicologa psicoterapeuta del centro clinico della scuola comitiva e una docente della scuola. Siamo insieme ad Alice Nardone, la collega. Buonasera a tutti, io sono appunto Alice Nardoni, anche io sono psicologa psicoterapeuta e lavoro appunto con Annalisa e mi occupo di infanzia prevalentemente. Ok, abbiamo pensato di organizzare questo webinar sul lutto pensando che è un argomento che riguarda un po' tutti a livello personale e anche a livello lavorativo. Ora non sappiamo le persone che ci stanno seguendo adesso se sono più addetti ai lavori o se possono essere anche persone interessate all'argomento che non sono né psicologi né psicoterapeuti. Quindi cercheremo di dare magari delle informazioni che possano essere utili a tutti partendo dal preso posto appunto che il lutto è qualcosa che riguarda la, purtroppo riguarda la vita di ognuno di noi e è un evento inevitabile a cui dobbiamo affrontare. Allora, cercheremo di fare un po' un intervento un po' più dinamico, quindi un po' parleremo, un po' avremo delle slide che devono servire un po' per seguire i punti che vogliamo trattare. Non vuole essere una lezione ma vuole essere un po', almeno l'intento è quello di far capire quali sono gli elementi importanti per noi in terapia da, di cui teniamo conto quando abbiamo un paziente che arriva con con un lutto e come scritto nel titolo potremmo dare qualche informazione su come si differenzia il lutto normale, quindi o il cordoglio, il lutto normale dal lutto complesso o quello traumatico. Sono tre aree diverse, anche lungo in continuo, ma che poi prevedono anche un intervento che può essere diverso, si richiede competenze diverse. Io mi farò la parte appunto introduttiva e dell'adulto, Alice invece si occuperà della parte del bambino. Ok, abbiamo pensato che, tutti voi avete la mail di studi cognitivi, della scuola cognitiva, per cui per qualsiasi cosa potete contattarci tramite quella mail. Se qualcuno ha piacere avere le slide che proiettiamo, le può avere. Abbiamo un'ora e mezza circa da quando abbiamo cominciato, cercheremo di non scorare troppo e saremo eventualmente disponibili alla fine di un intervento. Possiamo guardare se ci sono delle domande che possono essere utili a cui magari non abbiamo risposto, compatibilmente con non estendere questo webinar a qualche cosa di troppo lungo. Ok. Ok. Io partirei. Allora, sinteticamente questo è un po' quello di cui è la mia parte. Un po' la scaletta per farvi capire un po' qual è il percorso che faremo. Quindi parlando del lutto, del lutto normale, come evento normale, quali sono le fasi che sono state studiate, che è importante per noi sapere, per capire a che punto è la persona che chiede aiuto a noi. Ma che è importante, ad esempio, se voi non chiedete a questo lavoro, anche capire se avete vissuto un lutto, in che momento di questo percorso siete. Capire quali sono le manifestazioni che sono normali e invece quali sono i fattori che influenzano un lutto che poi diventa appunto complesso o traumatico. e infine ci sono dei tipi particolari di lutto che poi richiedono anche interventi un po' diversi. Allora, il lutto in qualche modo possiamo dire che segna come uno spaziacque, un prima o un dopo. È un evento che ci obbliga a fare conti con noi stessi, a fare conti con la nostra capacità di adattarci a una situazione nuova è completamente diversa da quella che c'era prima, è completamente irreversibile. Noi sappiamo che in tutte le culture, in tutto il mondo, sono presenti dei riti, che principalmente, anche se nelle varie culture possono avere aspetti diversi, però lo scopo è sempre quello di poter organizzare e contenere il dolore attraverso la condivisione di quelle che sono emozioni che apparentemente possono sembrare incollerabili. I rituali che possono essere sia di prima del funerale, durante il funerale e anche dopo aiutano chi resta, la famiglia o le persone che restano, a sentirsi parte di un gruppo, a sentire che possono condividere questo dolore. E' una dimostrazione di quanto l'esistenza sia intersoggettiva e di come questi legami significativi in realtà non possono finire, ma devono solamente trasformarsi. Questo accompagnamento alla morte è un aspetto molto importante perché permette alla persona di abituarsi e di poter salutare il morto. E questo è un aspetto che in questo periodo vediamo come invece non è sempre possibile salutare la persona che muore e come possa essere più difficile per i parenti iniziare una fase del lutto. Allora Queste sono quelle che Scusate Che probabilmente molti di voi conoscono come Le classiche fasi della Della perdita, le fasi del lutto Che sono state studiate da volvi, da parche, cerrando come delle fasi che ci hanno ogni volta che c'è un allontanamento, cioè una perdita di una persona, non per forza un lutto. Ma che poi sono state assimilate e sovrapposte a quelle che abbiamo davanti il lutto. Ora io non volevo stare con le slide tutto il tempo, per cui ecco ve le elenco, dopodiché torno a video io. La prima fase è quella dell'ossordimento, delle rispondità, la seconda è quella della ricerca della persona che è morta. Dopo questa ricerca e questo dolore perché la persona non torna più, abbiamo un momento di disorganizzazione e di distrazione per poi arrivare all'ultima fase che è quella della riorganizzazione e dell'accomodamento. Dicevo che possiamo vedere che sostanzialmente la reazione alla morte di una persona cara almeno inizialmente è quasi del tutto sovrapponibile alla reazione che noi potremmo avere nel caso di una separazione improvvisa ma comunque temporanea. Abbiamo detto che la prima fase è quella dello stordimento, è una fase che può durare da alcune ore a una settimana, è la fase dello shock, è la fase in cui siamo increduli e abbiamo bisogno di sapere perché è successa questa cosa. E in modo un po' discontinuo cominciamo a renderci conto della realtà della perdita, cioè a renderci conto che è veramente successo. tra appunto il modo discontinuo e abbiamo il desiderio di negare che questo sia successo e quindi non sempre ci impediamo veramente, pensiamo di rivedere la persona, di vederla, di risentirla. Quindi è come se il nostro cervello non riuscisse a integrare la nuova informazione immediatamente, ma ha bisogno di un po' di tempo per accomodarla. In alcuni casi possiamo avere, oltre a questo stordimento, una sorta di anestesia emozionale, che a volte può essere anche quasi terapeutica per permettere al nostro corpo, quindi alla nostra mente di assorbire questa realtà gradualmente. Quindi inizialmente diciamo che lo shock è così forte, in molti casi, che la perdita viene quasi riconosciuta prima cognitivamente e poi solamente successivamente a livello emotivo. Ok, dopo appunto la prima fase, che appunto può durare qualche giorno o qualche mese, diciamo che tu qualche giorno o qualche settimana, passiamo alla seconda fase, che è quella della ricerca e dello struggimento della persona perduta. Faccio una parentesi, il passaggio da una fase all'altra è anche molto soggettivo. Poi vedremo quali sono anche gli elementi che condizionano o influiscono su questo passaggio. Non c'è una regola prestabilita, non c'è un tempo, una scadenza dentro la quale uno deve aver fatto tutto il percorso, deve aver lavorato il lutto. Quindi ora in questo momento vi do delle indicazioni di massima. Dicevo allora, la fase successiva è quando la persona si rende conto che questa ferita è realmente avvenuta e quindi il dolore viene avvertito in modo più intenso. Continua in ogni caso un comportamento di ricerca, come se il cervello ancora non abbia abbandonato la speranza. E quindi anche proprio a livello fisico abbiamo dei comportamenti di allarme, di tensione, di eccitazione, di insonnia. Cioè il corpo è molto attivato, il pensiero è abbastanza prevalente. Ogni volta che c'è un confronto con la realtà, quindi ogni volta che fallisce il tentativo di ricongiungersi con il depunto, in qualche modo si apprende, è una conferma che la persona che a noi cara è morta. E può a questo punto sopraggiungere anche una emozione più di collera, più di rabbia verso chi ci ha abbandonato o eventualmente verso qualcuno potrebbe essere responsabile, verso qualcuno che avrebbe potuto fare di più. Sostanzialmente si cerca sempre un responsabile di qualche cosa che non avremmo voluto che succedesse. Successivamente aumentano le emozioni più di depressione, più di testezza e più di sensazione anche molto fisica, di dolore, di certo di mutilazione, come se una parte fosse stata tolta. Quindi dopo queste prime due fasi molto più attive a livello fisiologico, e quindi che sono appunto di shock, di ricerca, di avere la conferma che veramente ci sia successo, passiamo alla terza fase che è quella della disorganizzazione e della disperazione. cioè quella fase in cui si accetta che la perdita è accaduta, che gli sforzi per avere la persona non sono serviti, e l'arousal si abbassa. Quindi c'è un abbassamento di tutta l'attivazione fisiologica e la persona può apparire più disattenta, più disinteressata, l'umore più depresso. L'emozione prevalente è quella della tristezza, della poca voglia di fare, di muoversi. È una tendenza allo stare con se stessi. La quarta fase è quella della riorganizzazione. Quindi in qualche modo solamente dopo che abbiamo accettato la perdita, accettato vuol dire anche veramente realizzato, e accettato che la persona che amavamo non c'è più, ci possiamo avviare verso una riorganizzazione del nostro modo di sentire, di agire e di pensare. E quello che a noi ci viene richiesto è di sviluppare un nuovo tipo di relazione con la persona morta. Ovviamente una relazione che è mentale. E un altro compito che dobbiamo portare avanti in questa fase qui è quello di revisionare le nostre sicurezze, quello che viene chiamato il mondo degli assunti. Quelle sicurezze che magari questo tipo di morte hanno messo in discussione. Dobbiamo a volte creare una nuova identità. Pensate a una coppia, la persona perduta, cioè la persona che rimane deve cambiare, no? Magari da essere moglie a essere vedova. E l'ultimo compito di questa fase è quello di reinvestire l'energia emozionale, di sviluppare, cioè di continuare la propria vita, di canalizzare tutta questa emozione in qualcosa di nuovo, in qualcosa, di continuare la propria vita. Avevo segnato quali sono le manifestazioni normali del cordoglio. Ora ve l'ho messo perché così potevate anche vederle perché sono tante. Tutte queste, tutti questi elementi sono manifestazioni normali che abbiamo in tutti i tipi di morte. Ovviamente, ad esempio, lo shock emotivo, lo stordimento sono ovviamente maggiori in caso di morte emotive, morte improvvisa o morte traumatiche. Vedete appunto, c'è la collera che può essere appunto verso se stessi perché non abbiamo potuto prevenire la morte o verso coloro, come dicevo prima, che avrebbero potuto farlo. Può essere assimilabile anche alla protesta, come se fosse un modo per richiamare la persona. Si può avere ansia anche pensando al proprio futuro senza la persona. La tristezza, astemia, stanchezza, senso di inevitabilità sono invece con l'emozione un pochino più della fase dello sfruggimento, la fase in cui si è realizzato e la tristezza è prevalente. L'emancipazione del sollievo invece sono due sentimenti che possono un po' meravigliare, ma in realtà sono frequenti soprattutto dopo una lunga malattia, in qualche modo è presente un po' un sollievo, anche pensando alla persona che non soffre più, oppure quando c'è stato un rapporto molto difficile con questa persona, possiamo sentirci sollevati dal fatto che non ci sia più. E possiamo anche sentirci incolpati dal fatto di essere sollevati. Abbiamo anche delle sensazioni fisiche molto caratteristiche. Come il senso di vuoto allo stomaco, la sensazione di difficoltà a respirare, il senso di personalizzazione, cioè di disorientamento, oppure mancante di energia, debolezza, voler stare fermi a letto. Ci sono anche delle cognizioni, essendo cognitiviste abbiamo un po' più di focus anche su questa parte qui, che poi dovremo essere presente all'interno della terapia. L'incredulità, che è un po' il primo pensiero, abbiamo un senso anche di confusione, con problemi di memoria, difficoltà a concentrarsi, a organizzare pensieri. Tutto questo è normale. Preoccupazione, arremogenio, oppure il pensare ossessivamente a immagini o a pensieri o a ciò che è accaduto. Questo avviene soprattutto in casi anche di relazioni molto conflittuali con la persona che è morta. Abbiamo poi queste manifestazioni comportamentali, come disturbi del sonno, incubi, troppa fame o pochissima fame, tendenza a voler evitare di avere persone vicine, il bisogno un po' di isolarsi. Quindi la voglia di evitare di pensare alla morte o di evitare di luoghi e oggetti che ricordano quello che è successo, ricordano il depunto. Ci possono essere invece proprio all'opposto il bisogno invece di tenere tutto ciò che riguarda il depunto quasi come se non fosse veramente morto. Ok, quindi questo è quello che normalmente noi proviamo e speriamo, i comportamenti che sono normali, normali o comunque consueti. che non ci devono allarmare ma che dobbiamo in quanto terapeuti spiegare ai nostri pazienti e rassicurarli che queste sono le fasi che seguiranno. Dobbiamo altresì capire se ci sono, dove il nostro paziente in questo tipo di elaborazione è bloccato e quali sono eventualmente dei fattori che possono essere anche appunto dei comportamenti, delle connessioni, delle sensazioni che sono troppo forti e che il nostro paziente riesce a gestire male. E aiutarlo in questo senso. Quindi avere in testa quali sono le fasi dell'ultimo ci permette di capire dov'è che il nostro paziente eventualmente si è fermato o ha delle difficoltà. Ok, allora, ora poi colgo anche questa slide, ritorno io. Allora, i fattori, vi dicevo che non tutte le morti sono uguali, non tutti i lutti sono uguali e ci sono dei fattori che sono da tenere assolutamente in considerazione quando andiamo a indagare il perché una persona si trova in difficoltà o che dobbiamo tenere in mente come dei fattori che ci predicono un lutto complicato. Allora, intanto è la situazione in cui viene questo lutto, il tipo di morte, com'è che la persona è morta. L'altro fattore è quali sono le caratteristiche della persona, ovviamente la persona che è rimasta viva, quali sono anche le sue risorse. Qual è il contesto in cui la persona vive, quali sono la rete di sostegno, comunque il contesto in cui questa persona vive e quali sono i fattori psicologici, i suoi fattori psicologici che poi possono essere delle risorse o dei limiti. Allora, spero di non andare troppo veloci, però volevamo cercare di dire un po' tutto e anche se ovviamente tutto non si potrà dire. Allora, il primo elemento da tenere in considerazione e da indagare bene è la situazione. Se pensate, non importa pensare per forza ai pazienti, però potete pensare anche con il senso comune o se è successo a voi, come cambia se il tipo di morte è stata una morte annunciata dopo una malattia o una persona anziana, oppure se la persona è morta in modo improvviso o inatteso. In questo caso sicuramente il tempo di cui abbiamo bisogno per adattarci a questa termina è sicuramente maggiore. E' sicuramente un elemento importante dal punto di vista dello stress e dalle capacità di reazione. Quindi se la morte è improvvisa e inattesa, altro elemento è se la morte è stata violenta, mutilante, ad esempio per un incidente, oppure se è stata una morte che magari è anche altamente stigmatizzata, come può avvenire per un suicidio, per un omicidio, per una malattia, come ad esempio si deve essere la iglesia. Se la morte è stata casuale, se potrebbe essere evitata, se parliamo al suo elemento, se parliamo della morte di un figlio, che è completamente diverso, se potete immaginarlo, se invece parliamo della morte di un genitore anziano. Ora faccio il paragone con il genitore o con la persona anziana perché è quella che è più facilmente comprensibile o comunque che tutti siamo predisposti a mettere in conto, mentre gli altri tipi di perdite possono essere più appunto inatteso. Quindi la perdita di un figlio, anche a livello proprio di, a livello evoluzionistico, è qualche cosa di inatteso. Un'altra situazione che può essere da tenere in considerazione è la morte dopo malattie particolarmente lunghe e dolorose. Se la morte potrebbe essere evitabile o da noi o dai medici o da chi deve accorgersene. Altro elemento sono i decessi multipli, quindi poi li vediamo successivamente, quindi quei casi in cui muoiono più persone contemporaneamente o in attenso molto avvicinati. Altro elemento è se la persona aveva mai perso qualcuno, quindi se è la prima volta che vive un lutto. Ok, quindi questi sono tutti elementi che per noi sono molto importanti per definire o per orientarci sul, su quanto può essere scioccante, quanto può essere dissonante questo tipo di evento rispetto a quello che la persona poteva aspettarsi. Ok, si diceva, l'altra cosa da considerare è il contesto interpersonale. Il contesto interpersonale, quindi noi dobbiamo considerare la persona che è morta intanto che è coefficiente di fare il parentela con il nostro paziente e soprattutto valutare quale può essere il sostegno sociale e il contesto faccio culturale in cui la persona si ritrova. Collegandoci un po' al senso dei rituali funebri possiamo appunto confermare appunto quanto possa essere fondamentale per la persona a non sentire che il suo dolore può essere espresso e può essere capito dagli altri e anche condiviso. Magari si è risentito anche da altre persone intorno a lei. L'altro elemento che vi avevo segnato erano i fattori psicologici. Un aspetto molto importante da considerare è il tipo di relazione che la persona aveva con il defunto. Normalmente è un elemento che una relazione conflittuale crea un lutto conflittuale o comunque un lutto complesso. Quindi è un elemento assolutamente da considerare e vedremo anche poi all'interno della pediatria sarà un punto su cui ci dobbiamo soffermare. Quindi che tipo di relazione si aveva e che tipo anche di attaccamento, parlando di attaccamento in termini di voldi, per capirsi. Che tipo di attaccamento avevamo con quella persona qualora questa sia un conio, un compagno o un genitore. L'altro elemento, altri elementi sono sempre dal punto di vista delle caratteristiche della persona, il suo stile di coping. Cioè quali sono le risorse di questa persona? Che cosa fa di fronte a situazioni difficili? Se ha uno stile di coping, ad esempio, più passivo, del tipo non c'è più nulla da fare, non posso fare niente e tende a buttarsi giù, potrebbe esserci uno stile più di evitamento. Quindi al far finta che questa cosa non ci è successa, cercare stimoli che possano distrarre, concentrarsi ad esempio sul lavoro, su altre attività, usare farmaci, alcol, cibo. Cercare di spostare l'attenzione da ciò che è doloroso. Possono esserci invece la ricerca di fare terapie, sostegni per capire, per elaborare o per elaborare e quindi affrontare invece la perdita. Quindi il tipo di reazione, il tipo di coping che la persona ha e che mostra durante il lutto, ovviamente è qualcosa che ha a che fare anche con lo stile prevalente anche in altre situazioni. Però è sicuramente qualcosa che noi dobbiamo tenere conto. Allora, mi sembrava interessante quello che vengono chiamate le 6 R di Rando, perché in qualche modo ci fanno capire quali sono i processi per la risoluzione del lutto. E vediamo come accettare la perdita come definitiva e sopportare il dolore che questa perdita accompagna, sembrano in qualche modo essere gli elementi indispensabili affinché il lutto abbia un decorso favorevole. E prendere atto e accettare la perdita in qualche modo significa anche smettere di considerarla un problema che si possa risolvere. La perdita non è un qualcosa che si può risolvere, ma si può solamente, non è un problema. Non c'è una soluzione, c'è solamente un'accettazione, una sopportazione. Vi ho messo queste fasi, le fasi che sono definite da Rando, e vedremo come si ha un lutto complesso quando abbiamo una compromissione o un mancato completamento di una di queste fasi. Allora, la prima, che è quella di appunto riconoscere la perdita, quindi prendere, come ho detto poco fa, prendere atto del decesso. La seconda è reagire alla separazione, ossia esperire proprio il dolore della separazione, identificare anche le emozioni che troviamo e accettarle come qualche cosa di naturale, e successivamente trasformare il terzo punto, la SSR, trasformare la relazione con il depunto in una relazione nuova che ora deve basarsi sulla memoria e non più sulla presenza, non possiamo più avere una relazione diretta con questa persona, ma è solamente una relazione mentale. E in questo caso il compito appunto è quello di identificare se ci sono delle questioni risolte. Si può riesperire questa relazione anche ricordando in modo più realistico la relazione che inizialmente spesso viene in qualche modo idealizzata, le persone morte vengono inizialmente idealizzate, successivamente si va verso un riequilibrio della loro figura. Rinunciare ai vecchi attaccamenti, alle vecchie ipotesi sul mondo, alle vecchie idee, alle vecchie assunti che avevamo rispetto al mondo, rispetto a noi, e successivamente andare verso, risolversi e procedere in modo adattivo verso un nuovo percorso, senza ovviamente dimenticare quello che è stato precedentemente. Allora, stavo dicendo appunto, l'ultimo, il quinto punto che è quello di risolversi, la fase dell'accomodamento, risolversi e progredire in un modo adattivo nel vecchio mondo, senza, no nel nuovo mondo scusate, senza dimenticare il vecchio. Che vuol dire rivedere? Le R sono 5, 1, 2, 3, 4, 5, aspetta, sì, manca una che è reinvestire, ora ve la dico. Ok, dicevo, la quinta, quella che c'è scritto qui come quinta, appunto è il sviluppare un nuovo rapporto con il defunto e passare, c'è una trasformazione della propria identità, perché si passa da un noi a un io e quindi la persona deve pensare alla propria identità, deve pensare alla propria vita e a continuare senza che ci sia più l'altra persona al fianco. L'ultima R, poi la correggerò, è il reinvestire, che appunto è anche questo che ho appena detto, è la fase in cui l'energia emozionale deve essere ridiretta verso nuove e soddisfacenti investimenti, verso altre persone, verso altri ruoli e verso altri obiettivi. Quindi possiamo dire che si ha una risoluzione del lutto quando smettiamo di fare ipotesi su come sono andate le cose, di come sarebbero potute andare e di colpevolizzare noi stessi o qualcuno con quello che poi vedremo è un bias cognitivo del senno di poi, cioè quello che io col senno di poi potrei fare o avrei potuto fare. Quindi accettare l'ineluttabilità di questa perdita, apprezzare tutto quello che è stato buono di questo rapporto e trovare la propria via, pensando che questi legami affettivi sono permanenti a livello mentale e queste relazioni si possono trasformare. Spesso possiamo vedere che la risoluzione del lutto sembra in qualche modo comportare lo sviluppo di un legame diverso con la persona che è deceduta, non necessariamente la fine di un legame. E questa trasformazione del legame anche proprio nel mondo dell'immaginazione permette, non che la persona sia ancora viva, però è come se si potesse sentire comunque vicina, comunque un punto di riferimento mentale che è stato e che continua ad essere e questo permette alla persona che rimane di in qualche modo preservare il proprio senso di identità e di far sì che si possa sentire maggiormente capace di riorganizzare la propria vita. Questo lo possiamo vedere soprattutto con la morte dei coniugi o anche dei figli. Ok, allora spero di essere stata abbastanza chiara. Ora cerco di definirvi velocemente la differenza tra lutto traumatico e lutto complicato. Il lutto può avere una componente traumatica tale da generare una risposta di tipo post-traumatico da stress. Quindi a seguito di una morte improvvisa e accidentale la persona può mostrare tutti quei sintomi che si hanno di shock, di intrusioni, di sensazione di rivivere sempre il momento della morte, di alterazione dell'arousal con comportamenti irritabili, esplosioni di rabbia, senso di stordimento e anche la tendenza sia a rivivere quell'evento e la difficoltà a non riuscire a non riviverlo perché il problema non è il ricordarlo ma il sentirsi costretti a ricordare perché le immagini entrano in modo violento. e il comportamento parallelamente è anche di evitamento di tutto ciò che riguarda l'episodio traumatico quindi sia i pensieri che i luoghi in cui questo è avvenuto. Quindi abbiamo un lutto traumatico quando la morte è avvenuta in modo traumatico. abbiamo invece un lutto complicato o diciamo non risolto invece quando appunto la persona non è riuscita a superare quelle che vedevamo prima essere le R o comunque le varie fasi e come ce ne accorgiamo nel momento in cui la persona non riesce a parlare della persona morta senza emozionarsi in modo quasi irrefrenabile quindi nonostante sia passato magari anche abbastanza magari anche qualche anno il dolore è come se fosse ancora fresco. Quando dei piccoli eventi quotidiani fungono da trigger da stimolo per una reazione di dolore intensa. Altro elemento ad esempio è quando, vi dicevo prima la persona ha difficoltà a separarsi dagli oggetti del defunto quando le camere non vengono non vengono svuotate quando gli armadi continuano a essere pieni quando a volte a tavola c'è ancora un posto apparecchiato che possono essere normale nella prima fase anzi giuste e dall'altra parte all'opposto possiamo vedere come ci possa essere una difficoltà cioè un lutto complicato perché all'opposto è stato tolto tutto quello che era della persona in modo troppo veloce troppo frettoloso come se la reazione invece sia stata più quella cioè la di evitare di pensare a quella persona evitare di di star male altre situazioni altri elementi che ci possono far capire che non è stato risolto il lutto sono quando la persona ha sviluppato dei sintomi simili a quelli del defunto oppure quando certi tipi di sintomi o anche di di dolore compaiono con una cadenza ad esempio annuale in concomitanza delle degli anniversari oppure possiamo avere come altri elementi una fobia per una certa malattia o per un certo tipo di morte oppure cambiamenti radicali nello stile di vita oppure quando abbiamo atti autodistruttivi o autolesionistici ok questi sono tutti quelli che possono essere degli indicatori di 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 lutti non risolti ovviamente poi per le dette lavori sul sul DSM poi possiamo potete andare a leggere non sto qui a a parlarne quali sono tutti i criteri per il lutto il disturbo postraumatico da stress o il i disturbi da lutto persistente o complicato ok vi dicevo che ci possono essere delle morti particolari delle perdite particolari come quella che dobbiamo considerare nel momento in cui andiamo a valutare la traumaticità di questo lutto come la morte per suicidio gli omicidi i lutti multipli i lutti multipli e le morti improvvise ora non sto ad andare nel nel dettaglio perché è già abbastanza già abbastanza sforato però ecco volevo solamente appunto segnalarvi come questi sono sono dei lutti che sono di per sé traumatici e il e passare ecco ok e passare ora alla parte di intervento terapeutico anche questo ovviamente essendo webinar non è una lezione della scuola e quindi l'intento è quello di darvi un un accenno di quali sono i tipi di interventi che possiamo fare su che cosa sono sì eventualmente lo possiamo mettere ora mi stavo rispondendo a una domanda che chiedono se si può fare si può avere una bibliografia possiamo mettere alla fine delle slide quindi chi fosse interessato può anche può vederle in fondo alle slide richiedendole in serreteria ok allora dicevo il tipo di intervento innanzitutto non è detto ci sia bisogno di un intervento quindi la prima domanda che noi dobbiamo porci è quando si parla di interventi terapeutici per le persone nel lutto e chiedersi se e quando l'intervento diventa necessario anche perché i dati che noi abbiamo a disposizione ci dimostrano che la maggior parte delle persone che vive un lutto per quanto questo possa essere comunque doloroso e disturbante dal punto di vista emotivo è comunque un processo normale è un processo per cui noi siamo in qualche modo programmati e siamo siamo predisposti ad affrontare quindi gli esseri umani sono predisposti ad affrontare e adattarsi alle perdite e a tutto ciò che può essere avverso quindi la maggior parte delle persone dei sopravvissuti diciamo così non solo vive normalmente il lutto ma anche può adattarsi a questa perdita e anche alle sue e alle conseguenze di questa detto questo quando ci troviamo di fronte a una persona che noi possiamo avere un paziente ad esempio che è in terapia e subisce un lutto ma non è questo il motivo per cui è venuto in terapia oppure persone che vengono in terapia che chiedono una consulenza proprio a seguito di un lutto nel caso di un lutto recente spesso la risposta più più utile è quella di una manifestazione una semplice manifestazione di attenzione di empatia e di ascolto in cui noi facciamo parlare alla persona e cerchiamo di aiutarla a ripercorrere quello che è successo non è infrequente che molti non possano condividere questo dolore con i familiari per paura di addolorare troppo gli altri o per vergogna quindi in terapia possiamo ricreare un contesto in cui questo parlare questo raccontare può essere può essere accolto nel caso di vi ho suddiviso qui il counseling dalla terapia della terapia del lutto ora mi tolgo qui quindi il counseling o ok il counseling del lutto questo non vuol dire fatto solamente da counselor ok intendo counseling nel senso di intervento di supporto nel lutto consiste nell'aiutare la persona a superare un lutto che non è complicato o traumatico e è un accompagnamento nelle varie fasi quindi nell'accettazione della perdita nell'aiutare a risolvere eventuali questioni sospese identificare sperire e gestire le emozioni del lutto e individuare e superare quali sono quegli vari ostacoli che possiamo individuare che si frappongono rispetto al percorso di riorganizzazione e trovare un modo per ricordare il defunto che possa essere più adattivo questo è quindi il sostegno quindi nel lutto non complicato non traumatico abbiamo poi invece la terapia del lutto che invece appunto come potete immaginare sono tecniche specialistiche che vengono usate per aiutare le persone che presentano invece un lutto complicato o traumatico ok allora vi quindi oltre alla parte del counseling ovviamente da cognitivo comportamentali vi vi parlo brevemente degli interventi cognitivo comportamentali diciamo che il sono focalizzati sulla ricostruzione di una percezione del mondo di se stesso in termini più positivi perché il mondo diventa un mondo pericoloso un mondo imprevedibile è una terapia anche che è focalizzata sull'individuazione di quei bias come vi dicevo prima del senno di poi che portano a a un autorimprovero a un senso di colpa accentuato lavoriamo poi sul distinguere la causalità dell'evento e la colpa cercando di focalizzare la persona su quanto quel danno fosse realmente prevedibile aiutiamo poi il nostro paziente a riconoscere e a normalizzare a legittimarsi la sofferenza cerchiamo di diciamo che utilizziamo delle tecniche che sono volte a a validare in modo empatico le emozioni quindi a a riconoscere quali sono quelle emozioni naturali e che di cui ad esempio non dovrebbe vergognarsi che sono che sono anche condivisibili con altri ok il penultimo punto è quello di ridurre la gravità soggettiva del danno quindi quanto questo lutto sia dannoso per la persona che rimane quanto sia dannoso anche rispetto ai propri scopi di vita che molte volte potrebbero essere compromessi ok contrastare anche la credenza appunto di aver potuto eludere la perdita questo è abbastanza frequente ad esempio del se allora quindi l'idea del se io non avessi permesso al mio figlio di guidare la moto quella sera non sarebbe morto se io non avessi dato se io non avessi detto alla mia amica che non avevo voglia di uscire lei a quest'ora magari era con me ecco quindi nella terapia cognitivo comportamentale tra le altre cose andiamo a individuare quali sono questi bias questi errori di pensiero che bloccano in qualche modo nelle prime fasi la risoluzione e fanno rimanere la persona a rimuginare su questo tipo di pensieri che portano a colpa ha bisogno di senso di impotenza e di di disperazione ora cerco di velocizzarmi perché se no Alice non parla più l'ultima l'ultimo aiuto l'ultimo aspetto è quello delle tecniche bottom up ok quindi nella terapia del lutto abbiamo anche queste tecniche bottom up che sono tecniche che discendono dalle terapie messe a punto per i disturbi appartenenti al cosiddetto spesso spettro post-traumatico fra queste tecniche ad esempio abbiamo le MDR queste tecniche partono dal presupposto che un evento traumatico lascia un segno nella mente nel corpo che si riaccende ogni volta che qualcosa lo evoca con queste tecniche noi come punto di accesso primario utilizziamo l'esperienza somatica quindi quell'insieme di reazione e di attivazioni fisiche e corporee che il paziente manifesta durante ad esempio la revocazione di un ricordo mentre racconta della perdita attraverso queste tecniche cerchiamo di indagare qual è la reazione fisica e chiediamo anche al paziente di focalizzarsi sulle sensazioni corporee mentre ricorda l'evento cercando di arrivare un'integrazione mente-corpo tutto questo viene fatto contemporaneamente e questo lo facciamo anche nelle terapie cognitivo-comportamentali più standard si accede a un ricordo traumatico dopo che il paziente si sente in un in un contesto al sicuro quando le sue reazioni fisiologiche sono più cioè un arousal più 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 basso è una delle sensazioni fisiche anche più tollerabili quindi anche con l'MDR o comunque con le tecniche bottom-up cerchiamo di installare o di far sentire al paziente maggiormente delle sensazioni che noi chiamiamo risorse di capacità personale di abilità di capacità di poter reggere quella sensazione di poter affrontare la terapia e quella dalla parte della terapia è anche la perdita e tutte quelle sensazioni di di competenza di potercela fare quindi questa è una parte fondamentale che deve precedere l'elaborazione successiva l'MDR in questo caso noi la possiamo utilizzare sia per facilitare l'elaborazione di un lutto che possa non essere complicato sia per andare a elaborare tutto ciò che invece è più traumatico ok io spero di aver di non aver fatto troppo velocemente ma era che ore sono è un po' tardi però abbiamo iniziato un po' tardi quindi avevamo un po' previsto di sforare un po' però ci sono tante cose da dire e non è semplice condensare tutto quindi se qualcuno di voi poi può essere interessato ad avere maggiori informazioni può scrivere in segreteria possiamo lasciare appunto questi slide possiamo scrivere dei libri di riferimento più o meno specialistici per o dei siti anche di di gruppi anche di autoaiuto ora non c'è stato il tempo di parlare tutte queste altre forme di sostegno ok io mi zittisco ok mi sentite grazie Annalisa provo a condividere anch'io il mio termo ok allora spero che riusciate a sentirmi adesso invece parleremo dell'esperienza del lutto nei bambini piccoli e nei bambini in età prescolare ho fatto più che altro riferimento alla perdita del genitore quindi come possiamo immaginare nei bambini piccoli la perdita di un genitore non avviene quasi mai per vecchiaia la morte per vecchiaia ma piuttosto avviene in seguito o a una malattia o a un incidente e quant'altro ok allora come abbiamo potuto capire anche dalla collega l'esperienza del lutto è una delle esperienze più dolorose che appunto un essere umano si può trovare a vivere quindi immaginiamoci se questo avviene nei bambini ok in loro la perdita soprattutto la perdita del genitore è una vera e propria minaccia per il loro senso di sicurezza ok che nei bambini piccoli deriva appunto dal rapporto che questi hanno creato con il genitore ok allora è difficile stabilire nei bambini qual è il confine tra un sentimento doloroso molto intenso ma normale e l'inizio magari di un trauma ok Polvi ci parla di trauma della perdita nei bambini che hanno un'età inferiore ai 5 anni proprio perché ancora non hanno a quell'età acquisito un senso di sé autonomo ok e indipendente relativamente rispetto proprio alla protezione da parte del genitore ok allora non sto a ridirvi le varie fasi del lutto della rielaborazione del lutto che sono uguali nel bambino a quelle dell'adulto che ha descritto molto bene la collega però volevo parlarvi volevo parlarvi invece di quelle che possono essere le reazioni comuni sia nei bambini che nei caregiver ok dopo il lutto dopo una perdita allora a livello le reazioni comuni nei bambini a livello di sentimenti ritroviamo anche qui la protesta che è la prima reazione esperita appunto da un bambino che subisce una perdita e che è caratterizzata da un pianto persistente e da un'alternanza tra l'accettazione e il rifiuto rispetto ai tentativi di conforto da parte degli adulti ok poco a poco col tempo l'intensità del pianto tende a diminuire nei bambini in livello proprio di intensità per poi ricomparire magari in modo più sporadico successivamente soprattutto magari durante la notte o nei momenti di transizione della giornata per esempio il momento in cui il bambino si trova a dover andare a dormire ok poi dopo la protesta invece lascia il posto alla tristezza e al ritiro emotivo questa tristezza viene definita come una tristezza silenziosa in quanto appunto è caratterizzata da ritiro e da letargia ok in questo quando il bambino si trova in questo stato qui spesso spera che ci sia che avvenga un ricongiungimento col genitore defunto ok e quindi spesso può fare domande rispetto a quando tornerà il genitore ok magari a volte i bambini vogliono tenere con sé un oggetto del genitore ok non so se ci sono ok ok i bambini diciamo che esprimono la tristezza della morte a tratti nel senso che ci possono essere brevi intervalli di tristezza alternati con momenti in cui sembrano totalmente convolti in altre cose questo perché hanno essendo piccolini una capacità limitata di sollerare un'emozione così forte ok poi troviamo anche come reazione comune anche un'intensificazione dello stato di ansia relativa allo sviluppo ok quindi generalmente nei bambini tra i 6 e i 12 mesi dove normalmente ritroviamo un'ansia da separazione ecco dopo un lutto quest'ansia qua questo stato di ansia viene amplificato ok così come la paura di la paura di perdere l'amore e l'approvazione del genitore tutte queste ansie questi stati d'ansia vengono manifestati attraverso appunto un timore dell'abbandono un'eccessiva vicinanza al genitore che è rimasto in vita comportamenti che possono essere più seduttivi continue richieste di attenzione e anche un'eccessiva preoccupazione nei confronti del genitore che è rimasto in vita ok preoccupazione rispetto anche alla salute un po' perché c'è anche la paura di perdere anche il genitore che è rimasto in vita ok i sintomi fisici in questi casi possono essere appunto mal di stomaco mal di testa nausea voglia di vomitare ok un'altra reazione che ritroviamo nei bambini è un altro sentimento appunto un'altra emozione è la rabbia ok la rabbia perché spesso i bambini piccoli manifestano dolore attraverso proprio la rabbia attraverso comportamenti aggressivi che possono essere rivolti sia verso il genitore rimasto in vita un po' perché non è come il genitore che è morto ok quindi può essere ci può essere un'aggressività rivolta al caregiver sia possono essere degli agiti aggressivi autodiretti e quindi rivolti verso di sé quindi bambini che possono appunto picchiarsi tirarsi i capelli ok il genitore generalmente interpreta questi agiti aggressivi queste reazioni e questi comportamenti aggressivi come un rifiuso da parte del bambino nei loro confronti quindi spesso prova anche sentimenti di di rifiuto di non di non amabilità ok perché appunto va a interpretarli come un qualcosa che va contro di loro non come una difficoltà del bambino in quel caso lì di accettare una realtà così dolorosa ok poi troviamo una regressione nel funzionamento dello sviluppo ok quindi tutte le le varie tappe dello sviluppo diciamo così che il bambino aveva superato vengono tornano improvvisamente con un lutto quindi se un bambino aveva disturbi del sonno ma aveva superato quella fase lì con un lutto possono riemergere tutte queste cose quindi da un'ansia da separazione a disturbi del sonno che possono riguardare appunto la paura a dormire da soli piuttosto che i risvegli notturni gli incubi la difficoltà ad addormentarsi ok così come anche possiamo ritrovare la perdita del controllo degli spinteri degli eccessi di collera come abbiamo visto quindi anche una bassa tolleranza alla frustrazione anche per cose magari non gravi non importanti e il baby sulk poi un'altra reazione appunto è lo sviluppo i bambini possono sviluppare anche delle nuove paure che prima magari non avevano per esempio la paura degli estranei piuttosto che la paura del buio la paura a rimanere da soli paura dei rumori forti di oggetti particolari e la paura di separarsi appunto dalla figura di riferimento allora tra come processi affettivo cognitivo troviamo l'idealizzazione del genitore deceduto quindi i bambini tendono a ricordare il genitore che hanno perso come perfetto e quindi hanno fantasie riguardo al fatto che se fosse stato ancora in vita tutto sarebbe andato bene quindi per esempio se papà fosse ancora qui questa cosa l'avrebbe aggiustata quindi in questo caso tendono anche a percepire diciamo l'altro genitore il genitore rimasto in vita come sbagliato cattivo perché magari non possiede quelle caratteristiche del genitore che hanno perduto ok a volte i bambini tendono a fantasticare anche una riunificazione ok quindi a sperare che il genitore prima o poi tornerà ok hanno anche una un senso di colpa e un'autocritica molto sviluppato soprattutto insomma in età prescolare quindi a 4-5 anni e possono avere appunto questo senso di responsabilità nei confronti della morte del genitore tendono a pensare appunto di essere di poter essere la causa del genitore della morte del genitore questo questo perché magari hanno una visione un po' ecocentrica della cosa e quindi tendono a pensare diciamo che il loro dolore dipende dalle loro azioni quindi se il genitore è morto forse e io sto male forse è colpa mia perché magari ho fatto arrabbiare troppo il babbo per esempio no? ok cose di questo genere abbiamo anche l'attribuzione di un potere ogni potente questo nei confronti del genitore che è morto quindi il bambino pensa che il genitore sia appunto ogni potente e quindi che volontariamente sia morto nel senso che interpreta potrebbe interpretare la morte come un abbandono volontario da parte del genitore ok? quindi il genitore li ha voluti lasciare volutamente quindi può appunto temere di essere nuovamente abbandonato di non essere amato di non sentirsi al sicuro quindi il diniego ovvero il negare che il genitore sia morto e il negare anche la modalità in cui è avvenuta la morte non è altro che una strategia per cercare di mitigare un pochino quella che è la sofferenza da parte del bambino che viene percepita appunto come molto molto dolorosa allora vediamo ora invece quali sono le reazioni invece più comuni della figura di accudimento allora innanzitutto esistono delle differenze individuali perché ci sono persone che reagiscono urlando magari strappandosi capelli lanciando cose e ci sono persone invece che non manifestano questo tipo di comportamento quindi sulle reazioni della figura di accudimento le differenze possono essere appunto individuali o culturali gli adulti possono non dare il giusto peso al dolore del bambino pensando che essendo ancora in una in fase in via di sviluppo si riprenderà prima del tempo cioè prima di un adulto quindi in poco tempo il genitore superstice può risultare inaccessibile questo avviene soprattutto quando la morte ha assistito magari a una morte di tipo doloroso quando appunto è sotto shock potrebbe non essere accessibile e quindi non sintonizzarsi bene con quelli che sono i bisogni del bambino in quel momento quindi la figura del genitore superstice che è quella figura di cui il bambino avrebbe più bisogno in questo caso però in alcuni momenti può non risultare accessibile possono sentirsi completamente svuotati per rispondere in modo sensibile al dolore del bambino e quindi non essere in grado appunto di come dicevamo di connettersi con il dolore del bambino possono alleviare il proprio dispiacere dicendo a se stessi che i bambini piccoli non capiscono non capiscono la morte e non possono esservi influenzati a lungo c'è anche questa credenza qua cioè pensare che il bambino piccolo non possa capire che cosa sta succedendo gli adulti sono soliti non dire la verità ai bambini con l'idea di proteggerli dal dolore ok un'altra cosa molto frequente soprattutto nella nostra cultura è un po' questo è un po' il tabù rispetto alla morte quindi non se ne parla non si dice niente soprattutto se ci sono di mezzo dei bambini questo perché c'è un po' questa credenza di voler come dire che il bambino non capisca o che o al contrario che possa soffrire troppo e quindi per impedirgli una ulteriore sofferenza la reazione della figura di accudimento dipende anche molto dal tipo di morte dal tipo di morte un po' come diceva anche prima la collega appunto c'è una differenza tra una morte improvvisa e violenta dove si può sperimentare appunto la paura proprio per la propria sicurezza personale anche e quindi diciamo che un adulto che ha assistito alla morte del coniuge in maniera improvvisa e violenta può essere appunto sotto shock può essere traumatizzato e quindi non essere accessibile come dicevamo al per il bambino ecco ma così come anche un bambino che ha assistito ad una morte violenta del genitore è più probabile che in questo caso possa sviluppare un un trauma ecco e sono questi casi in cui magari i bambini necessitano di una di un aiuto di uno specialista ok quando invece la la morte del del coniuge avviene adempiendo il proprio dovere quindi per esempio i soccorritori di disastri naturali così come le persone che muoiono appunto al servizio del proprio paese ecco in questo caso la figura cioè l'altro genitore si trova a provare dei sentimenti anche contrastanti cioè da una parte c'è il dolore per la perdita da una parte ci sono sentimenti di ammirazione e di orgoglio verso il coniuge a volte in questi casi può succedere che il genitore tenda un po' a nascondere il dolore e a far emergere soltanto la parte di orgoglio di ammirazione nei confronti del del coniuge e questo può non aiutare il bambino che magari non riesce a a comprendere la cosa e quindi vedendo probabilmente il genitore che non esprime il proprio dolore è come se gli arrivasse un po' il messaggio implicito che parlare della morte è qualcosa di cui che non si deve fare di sbagliato e quindi questo non aiuta poi nella rielaborazione del lutto se invece la morte è avvenuta per suicidio piuttosto che una morte per l'AIDS ok o un genitore che viene ucciso ecco in questi casi ci sono tantissime emozioni che la figura di accudimento si può trovare a provare ci può essere un sentimento un'emozione di vergogna ok vergogna per paura del giudizio sociale fondamentalmente perché appunto il suicidio è un evento un po' stigmatizzato per esempio ci possono essere sentimenti di colpa relativi al fatto di cosa avrei potuto fare per impedire questa cosa ci possono essere anche sentimenti emozioni di collera perché mi ha fatto questo ok e anche di paura i bambini in questi casi tendono a sentire a provare questo grande sentimento di angoscia ma tendono anche a nasconderlo per proteggere diciamo così il genitore rimasto in vita ok e è in questi casi che si può ritrovare anche un accudimento di tipo invertito ok ok allora vediamo adesso però qual è il concetto di morte per i bambini a seconda dell'età allora da zero a tre anni i bambini fanno fatica a distinguere tra cose vive e cose non vive però sono molto sensibili alle emozioni delle persone che si prendono cura di loro quindi riescono comunque anche a capire un po' l'emozione del genitore sia l'emozione che anche il comportamento ok a tre cinque anni invece riescono a distinguere tra cose vive e cose non vive però non comprendono il concetto di irreversibilità della morte e quindi un po' quello che si diceva prima tendono a pensare che che la persona potrebbe tornare ok e quindi possono fare domande del tipo dove è andata quando ritornerà esatto esatto sì sì allora ok a sei nove anni invece a questo punto comprendono che la morte è qualcosa di irreversibile fanno fatica però ad autoregolare le emozioni e vivono con estrema paura l'ansia e l'abbandono da parte delle figure amate ok quindi dalle altre figure scusate sto controllando un attimo la chat non riesco le slide le puoi trovare alla non so se loro ce l'hanno analisa la mail della scuola la mail l'ho scritta prima la mail l'ho scritta prima è info che ho scritto nella nella chat chiedete a loro le slide trovate tutte le slide sì noi dobbiamo ancora mandarle le manderemo allora dicevamo sì quindi a 6-9 anni fanno fatica ad autoregolare le emozioni e vivono con paura quest'ansia di abbandono anche da parte delle figure che rimangono hanno paura che anche loro da un momento all'altro possono lasciarli ok a questa età sviluppano anche una curiosità per quanto riguarda i ritifunebri quindi possono fare domande per acquisire maggiori informazioni cosa che prima tendenzialmente non non fanno mentre a 9-12 anni diciamo che hanno un concetto di morte hanno il concetto della morte come definitiva e quindi a questa età il concetto di morte è praticamente uguale a quella di un adulto possono però spesso tendono a mascherarle le emozioni o a evitare l'argomento per mostrarsi un po' più forti diciamo così a quell'età rispetto a a questa perdita non riescono ancora bene però ad autoregolarle le proprie emozioni ok sì la registrazione dovrebbe essere su youtube ok allora ok come spieghiamo spieghiamo al bambino il concetto di morte allora le domande diciamo relative alla morte iniziano intorno ai quattro anni quindi è importante dare delle spiegazioni semplici e dirette ovviamente anche in base all'età di sviluppo del bambino questa è una cosa importante è fondamentale dire sempre la verità ok evitare di dare notizie con esiti fantastici tipo quando si muore si va in cielo eccetera perché i bambini tendono a prendere molto alla lettera quello che diciamo e quindi possono sviluppare anche delle paure di vado a letto ora che succede posso andare in cielo qualcun altro andrà in cielo quindi prendo tutto molto alla lettera è importante spiegare la differenza tra malattia comune e malattia che ha ucciso il genitore perché se utilizziamo il termine malattia magari un bambino più piccolo potrebbe interpretare anche una banale influenza come possibile causa di morte quindi è importante spiegare che magari la malattia della mamma che è scomparsa è una malattia rara ok ed è diversa dall'altra malattia da un'influenza così come per esempio il virus dell'HIV è diverso da un virus dell'influenza ok quindi spiegare al bambino queste cose è importante dopo poi aver fornito diciamo le informazioni base sulla morte è importante farsi un po' guidare dalle domande del bambino ok quindi lasciarlo libero di chiederci e quindi rispondere a quelle che sono i suoi dubbi e tutto ciò che riguarda le domande sulla morte del genitore ora ci arriviamo rispondeva alla domanda sì ora arriviamo anche a capire come spiegarla ok allora ok andiamo avanti ecco gli esempi di domande che possono essere fatte da un bambino generalmente sono che cos'è la morte quindi quando il corpo di qualcuno smette di funzionare non respira più non mangia e non beve ok perché le persone muoiono il corpo può essere stato danneggiato da un incidente oppure potrebbe aver avuto una malattia molto grave che i dottori non hanno potuto curare quando muoiono le persone molte persone muoiono quando sono molto vecchie i loro corpi sono troppo consumati la morte dura per sempre sì quando qualcuno muore niente nessuno potrà riportarlo a vivere nuovamente queste sono un po' alcuni esempi di domande allora in che modo comunicarlo allora la notizia generalmente è preferibile se viene data nella fase acusa del lutto come si diceva prima sempre utilizzando il linguaggio che è adeguato all'età del bambino e quindi al suo livello di sviluppo nei bambini un pochino più grandi può essere anticipata diciamo la reazione emotiva quindi sto per darti una notizia veramente triste lasciare che il bambino sia libero di esprimere la sua sofferenza e il suo malessere non agire come se niente fosse accaduto quindi non fare finta di niente e evitare frasi del tipo sarai più forte grazie a questo è importante validare tutte le emozioni del bambino e normalizzarle quindi è normale provare tanta sofferenza malessere disagio sentirsi tristi disperati affranti per la notizia della perdita della persona cara non tenere il bambino all'oscuro di come è avvenuta la morte della persona cara ovviamente in base a come è morto il genitore e all'età del bambino si possono dare più o meno dettagli quindi a volte è anche importante non dare troppi dettagli se la morte per esempio è una morte di tipo violenta quindi allora e se il bambino non ha assistito ecco in quel caso lì direi che non è indispensabile dare troppi troppe informazioni però dare comunque tutti gli elementi per poter elaborare correttamente che cosa è accaduto ok alla persona solo se il bambino vuole può essere coinvolto nei riti funebri ok anche questo è una cosa importante allora tutti i bambini hanno il diritto diciamo così di salutare di dire addio in qualche modo alla persona amata soprattutto se è un genitore però vanno un po' preparati nel senso che va un po' anticipato ok quello che potrebbe succedere quindi magari dire a un bambino adesso adesso vedrai tante persone tristi vedrai il genitore che è rinchiuso dentro la bara verrà portato in un posto che si chiama cimitero verrà messo sotto sotto dentro una buca da lì potrai andare a salutarlo magari ogni volta che vorrai però non potrà tornare indietro no non potrai rivederlo ok questo è una cosa da va un po' preparato diciamo così i bambini vanno preparati e poi loro decidono se se la sentono o no di partecipare però devono prima sapere che cosa cosa vedranno quale che cosa cosa è possibile insomma e a volte diciamo che i bambini più piccolini ai bambini più piccoli può essere chiesto anche per esempio di lasciare di fare un disegno per lasciarlo al genitore no questo è un'altra cosa che si può fare allora ok ovviamente nei giorni successivi alla perdita è fondamentale stare accanto al bambino farlo sentire ascoltato coccolato e soprattutto rassicurato ed è importante anche aiutarlo a rinserirsi nella sua routine quotidiana cioè mantenere una certa routine è un'altra cosa molto importante per i bambini quindi non cambiare le routine che il bambino aveva non pretendere prestazioni elevate dal punto di vista scolastico ok mi sembra normale perché appunto il bambino in quel momento ha un grosso stato di malessere quindi non ha quelle capacità di attenzione e di concentrazione che avrebbe normalmente e ovviamente anche nell'impegno e la motivazione saranno in calo rispondere alle domande del bambino sul tema della morte e offrire delle rassicurazioni soprattutto per quanto riguarda le figure che saranno vicino a lui e dare spazio sia al nostro dolore sia al loro dolore ok è importante anche affrontare i sensi di colpa del bambino ok come dicevamo appunto a volte i bambini hanno questo eccessivo senso di colpa quindi pensano che che sia dovuto un po' che il loro dolore sia dovuto alle loro azioni quindi possono pensare appunto sono stato cattivo per questo papà non c'è più il papà era arrabbiato con me per questo che non torna più a casa quindi vanno rassicurati su questa cosa qui poi la vedremo anche più avanti possiamo costruire insieme al bambino una narrazione di quanto è successo per esempio con dei disegni per aiutarlo questo anche soprattutto in terapia e possiamo fargli ripercorrere la narrazione attraverso anche quelli che sono gli episodi più significativi che lui ha trascorso anche con questa persona con il genitore allora questi li abbiamo un pochino già accennati comunque i messaggi essenziali da dare al bambino sono un pochino questi allora il primo è spiegare che il genitore non sarà mai più con il bambino quindi dare una spiegazione riguardo al fatto che il genitore è morto e non c'è più questo un po' a qualsiasi età mi sento di dire che andrebbe andrebbe detto anche perché i bambini sono degli attenti osservatori rispetto ai comportamenti dell'adulto quindi anche magari i bambini più piccolini che magari non comprendono bene il significato delle parole però comprendono molto bene il tono con cui viene detto e i vari atteggiamenti e comportamenti del genitore ricordiamoci che i bambini sanno se sono consapevoli della presenza o dell'assenza di un genitore e quindi l'assenza di un genitore più il dolore che emerge dal genitore in vita questo per loro è già un segnale significativo che qualcosa di brutto è accaduto quindi magari è importante spiegarlo anche per non far passare messaggi diversi ok se un bambino arriva in terapia e non è ancora stato messo al corrente della morte del genitore ecco la priorità assoluta in questo caso è quella di pianificare insieme al genitore in vita o comunque al caregiver che si prenderà cura di lui che cosa dirà il bambino e quando comunicarglielo ok ricordiamoci che nei bambini il linguaggio diciamo recettivo si sviluppa più rapidamente rispetto al linguaggio espressivo quindi anche i bambini comprendono molto prima di essere in grado di articolare qualcosa quindi possiamo comunque spiegare alcune cose anche se i bambini sono molto piccoli per esempio in bambini che hanno tra i 9 e i 12 mesi possiamo con un linguaggio semplice dare delle alcune informazioni per esempio dicendo proprio che la mamma è morta è andata via e non tornerà più con noi per quanto possa sembrare appunto nuda e cruda diciamo la cosa però è importante utilizzare il termine morte in questo caso e non termini del tipo si è addormentata è partita per un lungo viaggio se n'è andata ok ma proprio utilizzare questo termine qua è importantissimo dopo che abbiamo spiegato che abbiamo detto che la mamma è morta e che non tornerà rassicurare il bambino sul fatto che ci sono persone che lo amano e che si prenderanno cura di lui questo sempre a qualsiasi età mi spiego meglio sì sono due domande ok ora ci arriviamo cioè va sempre comunque spiegato al bambino che il genitore non c'è cioè gli abbiamo spiegato che il corpo non funziona più eccetera però quello dipende un po' anche dall'età dell'età del bambino quindi quando il bambino è molto piccolo occorre dare spiegazioni più semplici quindi spiegargli che a un bambino di 9-12 mesi appunto mi si diceva in questo momento basta dire che la mamma è morta e non tornerà bambino di 15-18 mesi mettiamo un'informazione in più diciamo per esempio che la mamma era molto malata e quindi la mamma è morta non tornerà più ok sempre rassicurandoli dopo in bambini più grandi possiamo sia dare ulteriori informazioni aggiuntive e possiamo anche come dicevamo anche prima anticipare quella che sarà l'emozione che loro andranno a provare e quindi dobbiamo comunicarti una cosa molto triste ok la mamma era molto malata è morta non sarà più con noi ok queste sono un po' le cose che dobbiamo dire poi dobbiamo anche rassicurarli sul fatto che però non sono soli si devono sentire al sicuro che ci sono persone che si prenderanno cura di loro ok non so se ho risposto un'altra cosa è appunto spiegare che il genitore non voleva morire anche questa è un'informazione essenziale ma che spesso viene tralasciata ok ok cerco di rispondere magari dopo alle domande che se no ho paura di non avere sufficiente tempo ok provo a rispondere alla fine allora dicevo un altro messaggio da dare molto importante è appunto spiegare che il genitore non voleva morire questo messaggio è un'informazione fondamentale ma che spesso viene tralasciata questo perché come dicevamo anche prima i bambini credono un po' che gli adulti siano onnipotenti e quindi probabilmente tendono a pensare che se il genitore li ha lasciati è stato per una volontà del genitore quindi va spiegato che tuo papà non voleva morire non voleva lasciarti avrebbe voluto essere qui con te ok ovviamente una spiegazione del genere non va data nel caso in cui il genitore si sia tolto la vita perché in quel caso appunto è diverso e quindi in quel caso lì ecco si può dare una spiegazione diversa si può dire che il genitore aveva una malattia mentale per cui non era in grado di prendere delle decisioni quindi non era lucido non ha saputo prendere una decisione in quel caso lì che però il genitore ha commesso un errore facendosi del male e soprattutto sottolineare al bambino che una soluzione c'è sempre che il genitore non l'ha trovata perché appunto era molto malato ok quindi stare attenti a questa cosa a questa differenza spiegare appunto che il genitore non tornerà più anche questa è una cosa importante per sottolineare un po' quello che è il carattere definitivo della morte comprendere che la morte è definitiva è importante per tutto il processo di rielaborazione del lutto perché se questo non avviene diventa un po' più o più difficile a volte può succedere per esempio che l'adulto per primo non 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 creda a questa cosa faccio un esempio nell'attentato delle torri gemelle dell'undici settembre i parenti delle vittime di cui non era stato ritrovato il corpo per primi speravano che ci fosse stato un errore il corpo non è stato trovato quindi che da un momento all'altro il parente potesse tornare questa cosa potevano trasmetterla ai figli che magari potrebbero avere avuto in quel caso lì una difficoltà nel rielaborare proprio il lutto ok nella rielaborazione perché non avevano questa visione diciamo della morte come un qualcosa di definitivo ok poi spiegare che il bambino come abbiamo già detto non è la causa della morte del genitore questo va fatto soltanto nel caso in cui il bambino si senta responsabile altrimenti rischiamo di come dire di innescargli un dubbio che magari non ha e quindi come dicevamo prima i bambini hanno questa visione un po' egocentrica del mondo per cui pensano di essere un po' la causa delle cose che succedono e quindi è importante spiegargli che che il papà non è morto perché lui lo ha fatto arrabbiare che questo anche in riferimento sia al genitore che è morto sia al genitore che rimane in vita perché il bambino potrebbe anche temere la perdita del genitore rimasto in vita nel momento in cui questo si arrabbia quindi spiegare che la mamma ora è arrabbiata ma non perderai la mamma per questo cioè la mamma non morirà perché adesso si è arrabbiata ok la mamma ti ama e rimarrà al tuo fianco questa può essere una cosa da dire ai bambini ok allora altri tipi di domande che possono esserci da parte dei bambini sono anche queste mi abbandoneranno le abbiamo un pochino viste mi abbandoneranno anche le altre persone a cui voglio bene quindi in questi casi è importante rassicurare il bambino che ci sono che le persone che li vogliono bene ci sono che non lo abbandoneranno ok questo a volte può essere difficile quando anche l'altro genitore rimasto in vita è comunque molto sofferente quindi magari quando lui per primo crede di non riuscire a sopravvivere a un evento così traumatico quindi è importante che il genitore venga anche in questo caso aiutato da uno specialista per superare un pochino il proprio dolore per aiutare anche rassicurare il figlio rispetto a questa cosa un'altra domanda può essere appunto morirò anch'io ok quindi anche in questo caso si può dire al bambino che che lui è in buona salute così come il genitore e che quindi passerà tanto tempo prima che si andrà in paradiso e quindi dovrà diventare un ragazzo dovrà crescere dovrà vedere tante partite di calcio insomma quindi è importante sottolineare lo stato di salute in questo caso noi stiamo bene il bambino sta bene quindi questa cosa non succederà e la cosa che è successa alla mamma per esempio una malattia è una cosa molto rara che non succede spesso ok chi si prenderà cura di me è un po' la questo l'avevamo un pochino accennato che il bambino va un po' rassicurato rispetto al fatto che ci sono persone che lo amano e che si prenderanno cura di lui è importante per i bambini la prevedibilità è sinonimo di sicurezza quindi vanno rassicurati da questo punto di vista se non sappiamo chi si prenderà cura di loro perché magari c'è stata la morte di entrambi i genitori quanto meno e quello è ancora più complicato appunto la situazione quanto meno vanno rassicurati nel breve termine su quello che succederà in quel breve termine ok sono stato io a causare la morte è un po' quello che si diceva anche prima quindi rassicurarlo sul fatto che papà non se n'è andato perché gli ha urlato non è che è morto perché si è arrabbiato eccetera e un'altra domanda potrebbe essere un'altra affermazione diciamo voglio morire così posso stare con la mamma ok anche in questo caso è importante magari i bambini appunto in preda all'angoscia possono dire frasi di questo tipo è importante qui che enfatizzare soprattutto quelle che sarebbero le perdite delle relazioni con le persone viventi che lo amano quindi tua mamma non voleva non voleva andare in paradiso non voleva morire non era pronta ti amava e avrebbe preferito stare con te non avrebbe voluto che tu morissi e se tu morissi non vedresti più il babbo che ti vuole tanto bene i tuoi fratellini se ci sono appunto i tuoi amici i tuoi amichetti non potresti più fare queste cose che ti piacciono tanto e quindi non potresti vedere più il terapeuta ci mancheresti tanto quindi in questi casi occorre un po' puntare insomma enfatizzare su chi rimane su quanto sarebbero dispiaciuti per l'assenza della morte del bambino e quanto invece è anche sui piaceri della vita ok enfatizzare su queste cose qua importante appunto alleviare anche le paure quindi affrontare tutti quelli che sono i ricordi intrusivi traumatici questo in terapia consolidare i sentimenti positivi e negativi nei confronti del genitore morto mantenere vivo il contatto del bambino con il ricordo del genitore deceduto gestire gli anniversari che sono sempre abbastanza dolorosi gestire anche le future separazioni anche con il terapeuta ok la vacanza del terapeuta piuttosto che la fine di un trattamento e affrontare queste paure condividendo insieme ai bambini i significati allora per quanto riguarda appunto gli interventi la terapia può essere fatta una terapia genitore bambino ok questo soprattutto quando i bambini sono molto piccoli e quindi è necessaria la presenza dell'altro genitore possono essere fatti interventi di terapia familiare se coinvolgendo anche i fratelli terapie individuali appunto anche cognitivo comportamentali con col bambino con sedute parallele col genitore e può essere usile fare anche delle consulenze scolastiche quindi con con le insegnanti dove il bambino passa appunto la maggior parte del tempo a scuola le aree da valutare sono un pochino queste allora il funzionamento emotivo sociale cognitivo del bambino precedente e successivo alla morte del genitore le informazioni che il bambino ha ricevuto questo parlo appunto sempre della terapia del terapeuta che deve un po' valutare questi aspetti qua all'inizio quindi che informazioni ha ricevuto il bambino sulla morte quindi i dettagli su come questa è avvenuta i ricordi traumatici relativi alla morte la relazione che il bambino aveva con il genitore deceduto le aree di relazione del bambino e la presenza della nuova figura di attaccamento quindi anche la relazione con la nuova figura se c'è stata se c'è una continuità rispetto alle abitudini quotidiane o se invece c'è stata una rottura un cambiamento i principi educativi della famiglia e quali sono i progetti pianificati per sostenere quel bambino le tradizioni culturali ovviamente familiari relative alla morte del minore la risposta della figura di accudimento ok in quel caso che si occuperà del bambino e anche le risorse e le vulnerabilità della famiglia nel prendersi cura di lui del bambino i primi obiettivi in terapia possono essere quelli di aiutare caregiver a creare un ambiente sicuro e accogliente di sostenere i legami emotivi del bambino con le nuove figure di attaccamento facilitare l'accettazione della realtà concreta della morte del genitore migliorare la regolazione emotiva in risposta di ricordi traumatici promuovere l'adattamento ai cambiamenti nella vita quotidiana promuovere la soluzione dei problemi e la risoluzione dei conflitti integrare la figura del genitore morto nel senso di sé del bambino alcuni strumenti che si possono usare con i bambini possono essere perché qui parliamo appunto di bambini in età prescolare possono essere appunto il gioco ok dove spesso i bambini lo utilizzano per ricostruire delle situazioni che in qualche modo possono riflettere la realtà e quindi dal gioco possono emergere tante cose e può essere il gioco un'occasione anche per creare dei significati condivisi con l'adulto rispetto a qualcosa al dolore che il bambino ha provato il disegno sempre per esprimere appunto o degli scenari vissuti dal bambino ed è anche un mezzo per esprimere appunto quelli che sono i suoi sentimenti le sue emozioni i libri che possono essere letti appunto nel corso di una seduta e possono essere utili anche per identificare e anche nominare i sentimenti se il bambino non riesce a farlo storie raccontate anche quindi magari possono essere raccontate storie che si avvicinano molto a quelle che sono i vissuti del bambino ma che hanno in questo caso un protagonista che è un bambino immaginario però permette al bambino appunto di accedere a certe emozioni a certi vissuti che magari potrebbe far fatica a tirar fuori ecco se avesse dovuto parlarne lui ok per mappe dei sentimenti intendo anche le faccine delle emozioni quindi le espressioni facciali quindi i bambini possono essere aiutati attraverso delle carte delle emozioni per indicare come si sentono in quel momento se quello che provano si avvicina a un'emozione piuttosto che a un'altra spesso si utilizzano anche termometri per misurare l'intensità dell'emozione quindi quanto mi sento triste da 1 a 10 ok questo le aiuta un po' identificare anche a riconoscere a nominare quelle che sono le sue emozioni scrivere lettere il bambino può potrebbe anche poter scrivere una lettera al genitore morto per descrivere un po' come si sente quelli che sono i suoi sentimenti se ha delle cose da dire al genitore oppure può essere anche utile costruire un libro dei ricordi o una scatola dei ricordi appunto dove poter i ricordi del genitore defunto che possono essere appunto delle foto piuttosto che degli oggetti di quel genitore e il bambino può tenere questa scatola tirarla fuori nei momenti di bisogno di nostalgia aggiungere cose quindi scrivere pensieri emozioni fare disegni e quindi quella è una cosa che lo tiene in qualche modo legato al ricordo del genitore questo a volte non sempre a volte riescono a farlo anche quei genitori che sono per esempio dei malati terminali oncologici qualcuno riesce a a creare una sorta di libro di di scatola dei ricordi per il figlio sapendo che poi però una cosa che poi andrà appunto a morire però questa è una cosa molto personale e molto anche difficile perché in quei momenti ok bene io avrei terminato sì ci sono alcune domande sì a qualcuna posso anche provare a rispondere io se che intanto vuoi leggere c'era una domanda sul di Giorgia rispetto al rispetto al far vedere un corpo compromesso cioè ora credo di aver capito di aver capito questo cioè se è il caso di Fannock qual è il criterio con cui si può scegliere di far vedere a un bambino abbiamo detto che è importante far vedere a un bambino o comunque per tutti noi è importante vedere il corpo per renderci veramente conto toccare che la persona è morta e per poterla salutare però ovviamente ci sono c'è tante casi in cui il vedere il corpo può essere mutilato può essere esatto bruciato può essere ecco non più può creare è vero delle immagini che poi possono rimanere e possono essere nauseottanti sì sono d'accordo nel senso che a qualcuno può servire soprattutto ai bambini un pochino più grandi magari può servire vedere il genitore o comunque il corpo della persona perduta però a volte appunto come giustamente diceva Annalisa ci sono delle situazioni in cui è meglio evitare un po' per quanto per come è il corpo e anche un po' in base all'età del bambino se la sente anche un po' anche quello anche in base al bambino stesso Prova a togliere le slide così si vedete Ok aspetta allora interrompo Un'altra domanda troppo mi sei già risposto Allora io ne avevo viste una cerco di Roberta giusto nel caso la perdita di un'amichetta quindi come posso aiutare mio figlio a esprimere le proprie emozioni a non chiudersi cercando di non parlarne proprio Ok in questo caso secondo me si può come dire cercare di validare un pochino noi quelle che sono le emozioni del bambino cercando anche di coglierle magari dicendogli anche se la tendenza probabilmente è quella di chiudersi dicendoglielo noi quindi mi sembra mi sembri un pochino triste mi sembra di vedere che tu in questo momento sia un pochino dispiaciuta per quello che è successo e anche normalizzarla sai è normale sentirsi tristi quando appunto avviene la c'è la perdita di una persona a cui vogliamo tanto bene normalizzarla anche nel caso in cui dicendole anche la mamma magari è triste nei momenti è stata triste nei momenti in cui ha perso un'altra figura un'amica piuttosto che un parente provare anche a spiegargli come ci sentiamo noi sai io quando sono triste mi succede che ho voglia di piangere che sento un peso qui al petto forte ok mi viene da da chiudermi in camera magari mi sento un po' quindi spiegandogli un pochino anche come noi ci sentiamo in quelle situazioni ok in modo tale che si possa aiutare la figlia a un po' la si aiuta a riconoscere quell'emozione la si normalizza ok quindi è normale che io mi sento in quel modo qui e non ne sono spaventata un po' perché ho la sensazione appunto che la mamma mi possa capire in questo caso capisce quello che provo si sintonizza con quella che è la mia emozione quindi magari mi sento anche più libera se lei me ne parla di esprimere quello che è il mio vissuto ok c'è un'altra domanda una sulla piste Medenna quindi è un po' più tecnica una cosa che volevo anche dire prima rispetto anche all'importanza di lavorare con l'ulto è proprio in termini di prevenzione cioè noi sappiamo che ora qui magari dico qualche termine che magari gli addirittori possono capire però noi sappiamo che la disorganizzazione dell'attaccamento nel bambino e quindi poi la maggiore vulnerabilità alla psicopatologia o comunque ai problemi relazionali è data dall'avere un genitore che abbia vissuto dei luci o dei fami che questi non siano stati risolti quindi per noi è molto importante aiutare un neo genitore o una persona che ha un genitore anche non neo a lavorare eventuali luci o traumi vissuti perché questi è come se impedissero un'approvità anche nell'accudimento del proprio figlio e c'è anche una trasmissione a livello dell'attaccamento del trauma e di tutte quelle sensazioni che il genitore prova nel momento in cui è impegnato a elaborare il suo lutto e contemporaneamente ad affidare il figlio quindi è veramente importante di lavorare subito sui luci e sui traumi nei genitori e poi l'altra cosa normalizzare funzionare anche negli adulti aspetta c'è stato due persone che hanno alzato la mano io non so se nel senso volete parlare o è tipo volete fare una domanda magari scrivetecelo normalizzare funzionare anche negli adulti non ho capito in che senso ok questo e poi Denise scrive quale ripercussione potrebbero esserci su un adulto che ha perso un genitore quando era molto piccolo le ripercussioni sono a livello dipende qual è il ricordo di questo di questo genitore qual è il racconto che è stato fatto di questa morte direi poi Alice ti aggiungi dipende poi come questa morte abbia sconvolto l'equilibrio familiare come ha reagito l'altro genitore perché poi è molto importante come è stata presa questa morte e qual è stato anche il sostegno del resto della famiglia quindi sicuramente delle ripercussioni ci possono essere tutto dipende da come è stata affrontata forse può essere un po' banale però è difficile rispondere in modo preciso però sicuramente è un elemento importante al di là del fatto che è mancata una figura ma è il fatto che le persone adulte in quel momento hanno avessuto un dolore forte e probabilmente hanno non è che potevano mettere in stand by l'accudimento del figlio per pensare al proprio lutto ma quindi hanno dovuto elaborare il lutto non elaborarlo mentre avevano magari un bambino piccolo da studiare c'era qualche cos'altro mi sto un po' perdendo con le domande qual è la vostra esperienza con pazienti correlata all'attuale epidemia separazione improvvisa mancante tra sensazione di tipo nebrale con visione con tra vissuto allora questo è un po' allora sicuramente quello a meno nella mia esperienza la parte più dolorosa è questo non poter vedere le persone in trattia intensiva ora sicuramente i problemi che ci sono adesso rispetto alla prima ondata sono un po' diversi adesso sono più gli adolescenti che mostrano problematiche da quarantena o da isolamento però ecco sicuramente nella prima fase non poter non poter vedere i parenti non poter fare i funerali pensare che i corpi sono stati a volte anche non sono stati esposti non sono stati potuti vedere non sono stati tutti i riti che normalmente vengono ci sono alcuni paesi in cui i morti sono stati per la strada ecco tutto questo sicuramente è qualcosa di molto di molto nuovo e ecco nella mia esperienza almeno questa è la parte più più difficile e sono d'accordo non poter vedere appunto il il corpo soprattutto nella prima ondata penso sia stata una cosa molto molto traumatica anche quella insomma non poter scegliere anche lì perché non si poteva scegliere ecco ok ci sono altre domande bambino che vive con la mamma in fase terminale di malattia meglio allontanarlo dalla mamma meglio allontanarlo dalla mamma per evitare di vederla molto malattia fisicamente o no 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 io direi di no 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 è sempre bene che comunque sia quella mamma anche in quei momenti no è importante per entrambi no anche per lui per come dire per dargli un corretto anche un corretto esame di realtà no vedere come sta la mamma capire che comunque è anche forse agevola diciamo così il passaggio dalla mamma che c'è che è in vita alla morte della mamma un pochino forse se la può anche spiegare in questo caso vedendo tutte le varie fasi della malattia della mamma e poi è importante anche per la mamma per assolutamente ok stavo pensando prima un po' ai libri di suggerire ora in realtà ce ne sono tanti molti variano un po' in base al tipo di morte quindi abbiamo l'articolo tutta la parte del lutto per i metà ora ci sono veramente tanti filoni noi non abbiamo potuto però ci può essere tutta la parte dell'accompagnamento alla morte come negli ospiti o nelle malattie lunghe si parla più di di un lutto anticipato cioè la persona ha la possibilità di viversi già la futura la futura perdita ci sono poi invece il lutto tutta la parte del lutto per il Natale c'è l'associazione Ciao Lapo che è di una collega di Prato che dà un grosso aiuto a tutto con l'attenzione di chat e di autoaiuto per il lutto in gravidanza e nei primi giorni dopo la nascita ci sono poi libri sulle emozioni durante il lutto tutta la parte infantile che riguarda la tua lice anche di come libri scritti per i bambini si 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 spiega la servita di un amico ora mi veniva in mente uno che è una figlia sui mille e molli ad esempio che spiega ecco possono essere visti come da da bambini da morte di una nonna o di un amico e poi ci sono magari i libri fatti da associazioni specifiche rispettando le acce a malattie io cerco di insieme di mettere un po' di libri che possono essere un po' di riferimento anche che magari contergono più informazioni come quello da cui ho riflesso un po' che è quel libro di Onofri che secondo me ha scritto molto bene di Onofri e la Rota dell'azione di un tipo evoluzionista e MDR di Lutto però ecco al di là dell'MDR che non è questo che uno può essere interessato però riassuma molto bene e uno può anche prendere il punto desigrafico ok è uguale anche per i bambini ci sono libri più tecnici per uno specialista così come libri che possono essere un pochino più alla portata un po' di tutti proprio per spiegare queste cose il concetto di morte per avvicinarli un pochino perché magari ci sono bambini che hanno comunque che ce l'hanno un po' in testa questa cosa qua e altri che comunque hanno assistito alla morte anche se fosse solo la morte di un animale piuttosto che un uccellino è qualche bambino invece che è proprio parte da zero che non ha mai assistito a scene di questo tipo quindi può essere importante un librino è un bel aiuto per i bambini dove viene spiegato con appunto figure animali ok io direi abbiamo scolato altamente alla grande mi stava anche di riuscire a starci ma non si è stata ok ci sono altre domande ci salutiamo è una disposizione se avete bisogno di contattarci tramite la scuola cognitiva la mail l'ho scritta prima e grazie a tutti per aver partecipato grazie a voi e ecco spero che sia stato un momento di spunto ovviamente non di approfondimento però di di spunto grazie a voi allora vi salutiamo e buone buone feste grazie a tutti